Dunque scendendo idealmente lungo il ciglione carsico con la nostra cabinovia e passando a lato del faro della vittoria si arriva qui in Park Bovedo dove il percorso si trasforma da un tragitto in dislivello a un tragitto in piano lungo il futuro Porto Vivo. Ancora con Roberto Prodan per capire l'impatto di questo impianto sul traffico veicolare ovvero sulla cosiddetta penetrazione nord della città come si è letto molto in questi mesi ovvero il passaggio di veicoli dal Carso a Trieste. La riduzione che l'impianto garantisce è una riduzione di circa 450 veicoli ora che tradotti in chilometri sono circa un risparmio di 50.000 chilometri al giorno di veicoli meno sulle strade. In termini di emissioni di CO2 siamo su un equivalente di circa 3.800 tonnellate il che equivale a circa a decine di etere di bosco tra le 50 e 100 etere di bosco corrispettivi risparmiati. Da un punto di vista invece del consumo di suolo quanto impatta questo tipo di impianto a fune? Tra le varie soluzioni viabilistiche sicuramente questa tipologia di impianto è l'impianto che meno impatta. Pensare un'alternativa ad esempio a una strada, a una ferrovia obiettivamente consumerebbe un elevato consumo di suolo. Inoltre questa tipologia di impianto consente di superare i dislivelli elevati e anche su terreni disomogenei come questi, quindi forti pendenze e terreni scoscesi. Chi gestirà l'impianto e quanto costerà il biglietto? Chi gestirà l'impianto, oggi non è ancora definito, potrebbe essere trattandosi di trasporto pubblico locale che sia stesso gestore del TPL attuale e questo considererebbe anche di rimodulare in modo significativo il trasporto pubblico garantendo un assorbimento di parte del traffico mediante la cabinovia ottimizzando quindi le risorse e si potrà garantire una maggiore copertura di quelle zone maggiormente svantaggiate come quelle dell'altipiano. Il biglietto sarà posto in capo al gestore e sarà l'equivalente di quello che è oggi un biglietto dell'autobus.